SILENTO 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 Hola, qui è Luis. Siete ancora in giro? Io volevo andare a casa, ma Ashley ci teneva a vedere il castello. Perfetto, perché ho un regalo da darvi. Una medicina che frena lo sviluppo del vostro problema. Dove andiamo? Vediamo... Nel cortile interno del castello Incontriamoci lì Ciao Bene, Ashley Luis ha detto... Ok Ho capito Ma andiamo allora, no? No Il cortile è dietro quella porta Dubito ci accoglieranno con un tappeto rosso Le cose si mettono sempre meglio Ho un po' di novità che potrebbero stuzzicarti Benvenuto Benvenuto Ho delle novità per te Attacchi o preziosi non fa differenza Spetta a noi però Decidere il prezzo È stato un ottimo affare È stato un ottimo affare Una scelta facile, amico I tuoi oggetti preziosi non serviranno a nulla nella tomba Avtorna presto Avtorna presto Un'ottimo affare Avvati Un'ottimo affare Un'ottimo affare Un'ottimo affare Benvenuto. Ciò che vedi è tutto quello che ho. Oh, oh! Con questa farei fuori folle di nemici. Bene, fai buon... ... 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 Viaggio! Grazie a tutti. 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 Muorte. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Tutto ok? Sì. Alla... 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 Questa sì che è una grande accoglienza. Alla... 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 No, sta bene. Niente. No, sta bene. Tutto bene? Sì, sta bene. Sì, sta bene. Sì, sta bene. Ashley! Grazie. Di nulla. Potrebbe andare. Sì, sta bene. 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 è una richiesta. Sì, sta bene. 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 Puoi vendermi. Sì, sta bene. provala. Posso fare... presto. Sì, sta bene. Benvenuto. Sì, sta bene. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.